Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Michelle Lundziker avrebbe già trovato il modo per consolarsi dopo la fine del matrimonio, annunciata sui social mediante comunicato stampa, con Tommaso Trussardi Michelle Lundziker.La bellissima showgirl e conduttrice è stata immortalata dalle riviste tedesche in compagnia di un ex concorrente del Grande Fratello, bello ed affascinante Si tratta di un medico che difficilmente passa inosservato.La foto scattata ai due piccioncini lascia poco all'immaginazione, sarebbero stati immortalati mentre si scambiano un bacio romantico e fugace con tanto di mascherina Tutto questo mette a tacere i rumors secondo i quali sarebbe stato Tommaso a lasciare la Lundziker, oggi sofferente e per questo dimagrita molto Probabilmente a chiudere il rapporto sarebbe stata la bella Svizzera che infatti ha già dato il via ad un flirt con un ex geffino e che ora sembrerebbe essere davvero felice Michelle Lundziker.Ecco chi è la sua nuova fiamma.Michelle Lundziker si sarebbe innamorata di Giovanni Angiolini, classe 1981, nato a Sassari, fisico svolpito, occhi di ghiaccio, medico chirurgo, ortopedico L'uomo è un personaggio famoso perché ha partecipato al Grande Fratello nel 2015 nell'edizione 14 abbandonando la casa in fotte anticipo per rientrare al lavoro ed occuparsi della sua principale professione Ha avuto una rubrica tutta sua, il Dottor G, ai fatti vostri su Rai 2 Nel 2020 ha pubblicato un libro intitolato Il mio metodo wellness, I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori Nel 2020 ha iniziato la collaborazione con il brand Govi fondato da Michelle Lundziker pensato per la promozione del benessere di tutte le donne Anche la vita sentimentale è stata parecchio attiva per lui. Prima della partecipazione al Grande Fratello ha avuto una relazione durata 13 anni con una donna non conosciuta Poi una breve relazione con Giulia Salemi, nota influencer e infine con la modella Mieves Bollos Durante il GF ha legato con Mary Falconieri facendo battere il cuore dei telespettatori e sognare ad occhi aperti perché sembrava essere una relazione da sogno, una favola d'amore che chiunque avrebbe voluto vivere Qualche mese dopo l'uscita dal GF però tutto è giunto a conclusione Adesso al suo fianco potrebbe esserci Michelle ma prima di giungere a conclusioni affrettate bisogna attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video